Ciao a tutti ragazzi, qui è Gamelader189 e oggi siamo qui sulla mappa Skyblock insieme a un mio amico che è Pappa, Freddy, saluta. Bella a tutti raga. Allora, abbiamo deciso di fare questa bella mappa perché diciamo che Freddy Pappa è per questo. Occhio a non cadere subito. Si si perché poi mi incasso. Si schingo tu. Infatti tengo il shift. Nessun alberello. No, aspetta. E guarda che se poi non esce neanche più un alberello abbiamo finito, non ci sono più alberelli. Ah no, ma c'è un alberello qui dentro la cesta, guarda. Che fortuna. L'ultimo quello fortunato? No. Zero. Zero proprio, minimo. Dunque, vabbè. In teoria se si può fare anche... Fate colate di lava dall'isola. In teoria se... Quando il nemico tornerà a Merkul e via al mare... Quelli l'hanno fatta d'acqua però. Diciamo, ebbè sono stati furbi. Vabbè, sì, infatti, perché se te la metti sotto poi riesci anche a risalire. Giurale. Dai, possiamo iniziare direi. Speri, spero, perché c'è l'ultimo pezzo di lega che letta, metti a legno. Direi che faccio una crafting box, che quella se no... Senza di quella. Senza di quella. Ah, capi, che paura, me l'ha messo davanti. ok abbiamo anche dei funghi così ci possiamo fare la cosa come dire sto facendo 150 fps io vado a 30 fps ti ha 150 oh e vai crafta crafta un picconcino di legno subito allora cosa di lava la prima faiera è la fonte d'acqua ho che la dice tutto però non è caduto il corso il blocchetto tocca abbassarlo di un piano perchè ci serve a fare da fare il corso dai io per la sabbia insomma si bene prendila ti preso anche il peso di terra che se prendiamo tutta la terra poi riusciamo a fare la sorgente d'acqua cioè la sorgente dai dei cobb aspetta però perchè se facciamo per fare la cosa di cobbè bisogna andare giù di due giusto bisogna fare acqua e lava ce li ho io si si ma devi fare uno acqua poi giù di due e giù di due capite in che senso? eh si ho capito si mi sembra che dovrebbe essere così ecco e quindi qua non è che bisogna fare tutto beh lo allarghiamo da questa parte ti l'ho alzato qua ti l'ho alzato qua di tre, normale ah dici? eh si ok cerchiamo di non perdere questo pezzetto l'abbiamo perso se vuoi c'è anche una volta così qui le carote aspetta chiudi qua sennò qua va giù tutto ok si si aspetta lo faccio ancora un po' più lungo non lo avevo guarda guarda giusto hai giusto fare uno, due, tre e qua l'altro pezzo e quindi qui sotto alla all'acqua sotto alla cesta allora qua metti la pezzo di terra la pezzo perfetto la pezzo di terra qui qui lo metto si e ora qua fai vabbè questo qua è giusto per facciamo uno, due uno ah ok e ora lo facciamo qua dietro e dovrebbe essere giusto chiudi qua però si mi sembra di sì e le dobbiamo levare c'è proprio sopra la cesta è qua che dovrebbe venire fuori da cosa sopra la cesta vai ok se la roba è dentro la cesta il materiale bisogna spostare la cesta un po' qui là sai che prendo tutto eh bisogna spostare la cesta più là ah va bene la prendo io allora tu sta sotto no non c'è rischio di perdere ce l'ho io ce l'ho io dove la mettiamo non c'è caduta dove la mettiamo mettila no 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 ho troppato ho troppato per sbaglio di seme e la mettila qui per ora perché finchè non facciamo la butta butta ok vai facciamo sta sorgente di acqua di eh sì di coble vabbè però bisogna fare la sorgente acqua infinita prima ah è vero vai là dentro c'è ci sono i due secchi d'acqua vabbè no so io la 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 cosa la so io la ah beh no va bene così va bene così spostiamo anche la carta in tebola a sto punto speriamo non cada nulla ah oddio no aspetta perché anche la sorgente di coble va bene va bene va benissimo la parte c'è un dislivello da parte della cesta no non c'è nessun dislivello perchè c'è la cesta ma è un bug probabilmente penso vai puoi fare la sorgente di coble vai allora l'ultima volta cioè mi ricordo che in una cosa il mio amico no me la fate diventa me la fate diventare ossidiana me la nata storia e allora no ecco non la dovevi mettere lì dovevi metterla sotto bel quale devi metterla sotto no cos'è perché lì è di due dislivello ok allora non devi metterla così aspetta ti faccio vedere allora ti dimmi se la vuoi no metti la la metti la perchè se no qua diventa ossidiana devi metterla là in fondo si 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 dammi dammi la quella lava Allora solo l'acqua dammi Ah ma come lava No lì ci va la lava Allora ma se noi la lava la mettessimo giù da qui Così almeno fa da sorgente continua Che almeno non c'è il rischio che l'acqua la faccia diventare pietra ossidiana Mi sembra sensato E però che cavolo ci metto qua dietro per non far cadere giù la lava Dimmi un po' di terra Tieni Ah ok quella va Quindi se noi mettessimo l'acqua qui Dobbiamo farla arrivare al massimo la lava capito? Qui Ecco aspetta 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 si vai Chiudi questo aprilo Poi aspetta vediamo se resiste a un'altra cosa Occhio che non cadi giù tu però Ah? Occhio che non cadi giù te Aspetta quale ora bisogna chiudere? Qui? Chiude anche lì sotto Chiude anche dove l'acqua può scendere Ma Qui da un'altra Anche due dai Una terra 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 Sì è un po' evidente no 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 Se vuoi un pianeta Ok ci siamo Ehm Facciamo anche un altro strato così siamo a posto o due pezzi di terra eh ok chiudi perchè c'è ancora un paziente ok chiedi così chiudi così chiedi così aspetta no 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 non spaccarlo eh quanto lunga è non l'ho mai fatta così lunga la roba probabilmente ci serve così lunga ma ho messo per punto di scopo ok ok ci siamo ecco ora dobbiamo metterci la lava cioè quindi dobbiamo allungarla ulteriormente hai della legna ehm anzi no aspetta prima coltiviamo l'alberello no ma aspetta fammi fare una roba che volevo fare io praticamente era aspetta qui lo posso mettere l'alberello qui in questo blocco ok praticamente la mia idea era non fare così lungo perchè quella terra ci serve anche per fare cultivazioni no per mangiare perciò se tu lo facevi così qua la fonte era qua e sotto c'era un blocco andava giù fino a 3 qua che si bloccava e dal 3 c'era il blocchetto per la lava che andava giù hai ragione ok la tolgo prendiamo tutta sta terra occhio che mi hai detto tutto tu hai detto no le hai detto prese oh oddio c'era sopra il cio io faccio il secchio di lava perchè se non mi fai cadere ho già capito ho già capito come la storia mi vuoi far cadere vai prova prova adesso aspetta chiudi chiudi perchè sennò va fuori tutto no lì allora praticamente dammi altri un po' di terra tieni terra ti ho dato 9 terre grande 9 terre 9 terre allora ci facciamo un bel pianeta in caso se la lava diventa ossidiana si fa no no lascia questo qua ok se la lava diventa ossidiana facciamo il island reset e se ricominciamo ma si vabbè tanto allora praticamente la mia idea oddio interro un po' troppo lungo vabbè va bene anche così penso ok la lava nella cesta eh ma vedi che continua ad andare avanti però aspetta guarda occhio alla testa no aspetta ecco era troppo lungo lo sapevo io oddio mi serve la picca mi serve la picca oddio mi serve la picca no perchè è sconquesta vabbè tanto è uguale no la testa la piccola la piccola la piccola la piccola la piccola l'hai preso la piccola si si perchè è stato quella no ovviamente si forma anche quella bonus allora dunque facciamo facciamolo di 3 senta che cavolo è successo l'ho 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 aspetta che prendo un altro pezzo così ahia oddio adesso chiudo la lava un attimo eh nel senso la tappo eh nel senso ok ci siamo ci siamo si ci metti magari un blocchetto sopra adesso ma che genio e ora con le slab si allarga l'isola capitano come funziona ma qua cosa c'è un pisello di terra ahahah אנחנו oddio sarebbe da fare un pisello di terra no è ancora ma sono deficiente però è la terza volta che lo piazzo qua ok dai così almeno evitiamo le cadute e spacca un po' di roccia spacca capo il signore anzitò faccio io dai dammi in casa facciamo sai tipo se intanto fai tipo la base per dove è andato il piccone? lo so oddio è nel buco è nel buco è qua 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 ah ok è più carino così dai da un senso di significato la cosa brutta la cosa brutta è che non posso neanche fare non posso farti male non c'è il tdp vabbè ti immagini mentre uno qui è nel blocchetto proprio lì che sta mettendo la slab vince di sotto da aspetto proprio morto copaccio crescendo eh sì fallo crescendo vada ma intanto possiamo fare la base per le nostre culture aspetta dammi un po' di coble che faccio lo slab così andavo un po' di slab aspetta faccio io le faccio io le faccio io oh capo perché c'ho tre buoni che non basteranno mai eh fu 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 eccocele qui 18 slab aspetta 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 che sono qua mentre il buco cosa per aspetta pisciando wow damn tanto quanto quanto ho adesso fatto così no 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 non metterli mettere qua 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 sennò se no gli ebre ricadano giù ahaa cosa ah ahah ok così va bene si allarga anche di qua qui no 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 ma farò tutto non è scalino cazzo ho sbagliato piano vabbè vabbè rimetteli sopra ok dai facciamolo crescere uno levati levati che se no non cresce due e tre no no cazzo guarda come grosso guardalo cazzo che scuso che bastardo vabbè dai ah io ho fame facciamo il terreno per le colture dai il terreno per le colture faccio scrivi anche island set home così quando ritorno qua mi metto qua ok io mi suicido ecco è cresciuto è cresciuto volevi un bell'albero? te gigante è venuto bello eh si vedi che porta fortuna a fare uno due e tre eh no no aspetta mi suicido perché lì ci ho piantato il cactus no non ancora ah è vero no perché c'è l'albero oddio è arrivata mia madre porca puttana vabbè la dobbiamo smettere qua oggi si dai grazie per la visione ciao bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti